Tantissimi auguri per un 2020 strepitoso, ricco di amore, di gioia, felicità, serenità, pace, armonia a tutte voi. Grazie veramente dal profondo del mio cuore. Grazie davvero a tutte e tutte voi tesorine mie per seguirmi sempre, per avermi accompagnato durante questo 2019. E scusate per questa vocina un pochino così, però sono circa due settimane che sto malissimo, ho la febbre, però sono molto contenta. Soprattutto mi piace proprio il 2020, una cifra tonda tonda, secondo me questo 2020 sarà veramente un anno speciale. Sono quasi le 4 del mattino, siamo stati a mangiare fuori io e la mia famiglia. Infatti ho girato un mini vlog, vi ho fatto vedere anche le nostre portate, un pochino come è andata la serata. Tanti bacioni, vi lascio al video registrato nell'agriturismo, perché siamo stati in un agriturismo in campagna davvero molto bello, in cui si mangiano cipi genuini, in cui si mangia molto molto bene e infatti siamo stati benissimo. L'unico appunto è che la nostra cena è durata dalle 9 fino alle 3 del mattino, ma questi sono dettagli. Poi c'era un ragazzo molto simpatico che metteva la musica, abbiamo ballato, abbiamo fatto tante cose tra una portata e l'altra. Ma è stata una serata piacevole, molto piacevole, insomma qualche pezzettino di questa serata lo condivido insieme a voi e ci vediamo prestissimo. Bene, 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 gentili signori, mi sono spostato da questa parte, nella seconda sala. Io e tutto lo staff del Casale della Carossa vi diamo il benvenuti. Mi sono presentato un po' con tutti i bandi di voi, io sono Simone, per qualsiasi richiesta musicale sia a vostra disposizione. Quanto sentirete ci divertiremo con tanta musica, ovviamente qui la cucina è una garanzia. Il 2020 è alle porte e quindi divertiamoci tutti insieme. Buona serata! Ciao ragazzi, ciao ragazzi, noi siamo qui al veglione di Campodanno. Ah, al veglione di Campodanno. Ho il casale dell'acqua rossa. E niente, aspettiamo questo nuovo 2020. E a più tardi, ciao! Io sono con la febbre, non so neanche dove mi trovo in questo momento. Ho fatto un trucco a casa, faccio vedere la mia mammina. Ah ragazzi, vi auguro un 2020 spumeggiante, con tanta fortuna, tanta gioia, tanta felicità. E che tutti i sogni si avvengono. Bacioni! Ancora l'abbiamo preguito. Antipasto di mare. Abbiamo salmone, pesce spada. E tutta roba strana che io non mangerò perché non mangio il pesce. Assaggia. Dici com'è. Buonissima, pesce spada di mare, ottima. Per assaggiare, mamma. E questo è per me e per la mia mamma. La mia mamma è la mia mamma è la mia mamma. La mia mamma è la mia mamma. si continua con il fox vini per tutti i celsi, bottiglia di Ferrari, confezione di cioccolatini e panettone della Lini e per finire un voucher, cena o pranzo per due persone qui a casa e a casa dovessero esserci due o più vincitori si pescherà in questo sacchetto un numero, il numero più grande vince il prezzo ecco sono io, niente, non vinco mai, non sono fortunata mancavano tre due, e invece, però la mia nipotina ha vinto qualcosa ha fatto acqua cosa è un vino? sì, due, vino o quanto ancora si avventò se trova dopo ci, il vino è stasera le vediamo ma che vediamo? no, 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 non ne veda non ne veda tutta la febbra fa un poco impressione fa un poco impressione non fa impressione perché è buono perciò che è pancetta va bene ragazze, mancano venti minuti alla lezzanotte guardate che faccio che ho, si vede proprio che sono un po' la febbra con la voce proprio una voce tremenda poi c'ho dei visitatori qui sulla mia fronte e anche sulla cuore è meraviglioso mia sorella quando mi ha visto mi ha detto ma questo non mi sembra un trucco in realtà non è da te questo trucco e infatti è vero, però non sentendomi bene non me la sentiva quella di truccarmi è stato un trucco che ho fatto nel volo e ora lo metto così così ve lo faccio vedere il trucco che ho fatto con la Mercury dentro grade in due secondi che devo fare e così a volte l'influenza viene quando non deve venire beh, torno di là c'è un casino, una musica pazzesca perché la mezzanotte è qui ciao 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 3, 4, 3, 2, 1 Ciao amici, tantissimi auguri di buon anno nuovo a tutti voi con la speranza che è un anno meraviglioso per me un rischio di amore, di gioia e di serenità un po' di retegno, con i gioia, con i gioia, con i gioia un bacio salutati a franco ciao amuri ragazzi sono l'una e 43 e ancora stiamo mangiando, non sto scherzando finiremo per le due di notte? non lo so, vedremo, vi farò sapere com'è? buona abbracciando tutti insieme, un grande abbraccio abbraccio a mamma abbraccio a mamma abbraccio tanti bacioli ancora, tantissimi auguri di felice anno nuovo a tutte voi e grazie per essere iscritti al mio canale, siete veramente speciali